Un'azienda relativamente giovane che nasce però con vocazione biologica. È un'azienda che ha solo vitigni di proprietà, è un'azienda che ha 9 ettari e produce ad oggi 6 etichette di vino. Il tutto biologico e senza soffiti aggiunti. Facciamo due bottiglie di bianco tratte da fiano tutte e due con maturazione differente, una bottiglia di rosato, tre rossi di cui uno è un blend aglianico e primitivo, un altro è la nostra riserva di aglianico che facciamo soltanto nelle annate migliori e la nostra bottiglia di punta è il nostro vitigno l'aglianicone il quale ci dà tante soddisfazioni. Proprio quest'anno abbiamo vinto anche un premio a luglio in Puglia come miglior rosso fuori regione prendendo la medaglia d'oro. Grazie a tutti!